Ciao a tutti ragazzi ben tornati in questo nuovissimo video Oggi è di sabato, non so perchè Ho trovato un po' di spazio libero stasera Un po' di tempo per parlare con voi E dirvi dei piccoli trucchetti per vincere delle partite Allora raga, il primo trucchetto è quello di atterrare per ultimi del bus Partirete per ultimi del bus Però dovrete capire la partita fortunata Che la safe parte dopo molto tempo Quindi se potete farvi delle kill gratis fatevele E vi darà pure qualche XP Anche se non la vincite Quindi uno è azzerrato Kill gratis Kill gratis, misto 0-2 Ho ucciso misto 0-2 perchè era firmo Quindi Quell'altro avrà ripreso a giocare Forse era andato in bagno Consiglio numero 2 Allora consiglio numero 2 Andate, andate, andate A questo punto della mappa Sarebbe In pratica questo sarebbe Est Andate a questo punto qua Lutate Sia per fare la missione Quella di visitare E sia per trovare buonissimo loot Perchè qua trovate buon loot Qua trovate buon loot Ragazzi Se voi ci andate qua Trovate buon loot Poi Dipende Cioè dipende da voi Ecco Trovare la missione Trovate buon loot Perché Cioè qui Trovo sempre buon loot Però Perché raga C'è la casa Cioè c'è la casa Però Quando è più lontano Ehm Qua dove venite qua La casa deve essere solo vostra Deve essere non Consiglio numero 3 Se dovete trovare buon loot Andate al vulcano Al vulcano si trovano molte buon loot Si trovano molte chest E soprattutto Trovate la schermata La stellina della schermata Caricamento 2 Adesso vi faccio vedere Come entra all'interno del vulcano Beh Credo che lo sapete tutti Ma Il trucchetto Il trucchetto più bello Per entrare Cioè Il trucchetto Non è nessuno Perché basta Che fate così Beh basta Che bisogna Che solo Voi andate contro Ehm Ehm Mi fa in fare Quando non ti fa saltare Ti fa saltare Allora raga Contiamo le chest Che ti porta al vulcano Che ti dà vulcano Allora Compise con il volto Un accesso Poi ci ritroviamo al lutto Allora Prima cesto Secondo cesto Va bene In cui ci rilassano Qua Qua Ci fa tutto Allora Allora Il tuo cesto Tre cesti Guardate il tutto Raga Ci fa tutto Ok Guardate quante cesto Sto trovando Cioè Raga Siamo qua Ci ha 5 cesto 5 cesto 5 cesto Eh Lo cesto Sì 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 Ok raga 7 cesto Andiamo al lutto 7 cesto Raga 7 cesto In tutto il vulcano Comprese quelle là Comprese quelle altre 9 cesto Cioè 8 cesto Raga 8 cesto Nel vulcano Non ho mai visto Raga Il video finisce qui Se vi è piaciuto il video Mettete like Se non vi è piaciuto Guardatevele e basta E se non avete un account Su youtube Fatevelo Raga Tosse Allora ragazzi Se vi è piaciuto il video Mettete like Scrivetevi al canale Ti avete una campanella Fai tutto quello che volete Commentate male Tanto vi non mi interessa Sì Sono piaciuto Questo Oh my god Anonimo 9 cesto È stato fortunato Questa partita Che ha Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Beh ragazzi Se vi è piaciuto Mettete like Scrivetevi al canale Attivate la campanella È bella Raga Scrivetevi al canale Grazie.